Wella ragazzi da oggi vi ricordo che potete supportare il vostro creator preferito attraverso la scheda negozi oggetti Cliccate su supporta un creatore e inserite il mio nome jkpr-ucalabres accetta Dopo che avrete cliccato accetta ragazzi controllate che ci sia scritto sul creatore supportato il mio nome Quindi ragazzi se le mie live e i miei video vi hanno strappato almeno un sorriso in tutto questo tempo Vi ricordo di inserire il mio nome in creatore supportato jkprucalabres e ringrazio chiunque lo farà Ma bando alle ciance vi ringrazio e vi lascio al video Ciao belli Eh questo è stream Eh potrebbe essere stream sniper Chi? Nah Questo Nah no 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 dai dai che ce la fai Comunque dopo mettiamo il delay nella live mettiamo il delay perché se no Oggi Oggi x è un clan Andrea Andrassalexi 9 9 8 Stream sniper Dai dopo mettiamo il delay mettiamo il delay eh dopo Vediamo pitit che ci combina uno start abbastanza safe raga Vi ricordo che lui è stato uno di quelli che ha fatto 18 kill 16 kill nelle fasi di qualifica eh Vabbè intanto fatemi vedere Fatemi vedere Alla prossima si al prossimo torneo Bellenrico 281 mi raccomando raga pushiamo stile che siamo già in 1500 Siamo in 1500 Siamo in 1500 Ok giocartela così pitit Occhio Come va che essere eliminato è un nulla eh Non è riuscito a portarsi a casa una kill Posizioni a livello di positioning non ci siamo Bella Mario Occhio Occhio e occhio pitit Occhio pitit Occhio pitit Occhio pitit Occhio compà che c'è 0 punti eh Matalo Vaffanculo spaccalo sto bastardo Va va Che con il merda Ciao A casa ragazzi a casa eh A casa ragazzi A casa A casa Sono nabbi questi Sono proprio nabbi A casa Grande pitit GG Bella Bravo pitit Bravo pitit Bella Michele Jovinella Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale Grande matti Le prime due kill se le hai portate a casa Bravo pitit Nulla al caso compà 100 di vita Bravo Va bene snipe Nessun problema Basta che vi prenotate ragazzi Probabilmente andrà alla ricerca di qualche kill ragazzi adesso Probabilmente eh Vediamo dove va Penso che si fermi a borgo bislacco raga Occhio che ti ammazzi compà Questo cazzo di cosa è rischioso eh Per adesso ancora 0 punti se non sbaglio Bella schere Bella Per ora Ancora 0 punti C'è un aereo ragazzi Vediamo cosa fa Vediamo se si porterà a casa altri 2 kill Mica come gira Sembra una trottola Sembra Ok Gli ha rotto l'aereo Bella 30 di danno Segue per la kill Mi sa che ci sta qualcun altro Quindi Bisogna fare molta attenzione Non so quanti materiali abbia 59 di danno Più 20 Ancora è full scudato Probabilmente ci sarà qualcuno Nei dintorni Quindi è molto rischioso Andarlo a pushare È molto rischioso Andarlo a pushare Mi sa che l'ha visto Questo mi sa che è l'amico Oh shit Oh What raga What Madre mia ragazzi Mamma mia signori Mamma mia ragazzi Prende il possesso dell'aereo avversario Solo spettacolo ragazzi Solo spettacolo Solo spettacolo ragazzi Fortnite spettacolo qui A Lucano Press Stadium Pusha L'amico Ha ricaricato Quattro colpi Deve difendersi per altri quattro colpi Ve ne è bombardato Da una serie di missi Ma riesce a recuperare 129 GG GG Nice kill ragazzi Mamma mia ragazzi Queste cose le rivedrete Negli highlights del torneo ragazzi Mamma mia ragazzi Spettacolo ragazzi Spettacolo cacchio Ci si mette anche l'albero Bravo Pitti Molto concentrato Lo vedo molto concentrato Ragazzi No ha missa il colpo Che non doveva missare Occhio Occhio Pitti Vai Pitti Viene massacrato Da colpi di bazooka Che tensione ragazzi Bella Bella Bravo GG GG Sti russi e merda Stanetina esorda e cattiveria 6 kill ragazzi Fortnite spettacolo ragazzi Mamma mia Uno dopo l'altro Non riesce manca a lootare Ragazzi Uno dopo l'altro Uno dopo l'altro ragazzi Uno dopo l'altro Una difficoltà assurda Una difficoltà Oh Nice Mamma mia ragazzi Che difficoltà sta partita Ragazzi Uno dopo l'altro Mamma mia ragazzi Modifica edita Sembra un cacchio di ninja No Oh shit Un altro Curati curati che ci sono nemici No Mamma mia ragazzi Che tensione di partita ragazzi Mamma mia Mamma mia ragazzi Porca miseria ragazzi Riesce a uscire da questa situazione Uno dopo l'altro ragazzi Mamma mia Che editing ragazzi Che velocità nel building Scusate Building super veloce Potrebbe approfittarne per curarsi Un attimino Anche se c'ha Bravo 111 Muori Muori Ciao Alla prossima Elimina i suoi nemici Uno dopo l'altro È una macchina da guerra Signori È una macchina da guerra Cazzo Bella pitit È una macchina da guerra Ragazzi Partite del genere Non ne vedrete È una macchina da guerra Ragazzi Ci stanno ancora Ci stanno ancora altre persone Dunca Sperando non finisca i materiali Sperando non finisca i mats Ragazzi Mamma mia ragazzi Un'altra kill Portata a casa Deve prendersi i materiali Deve prendersi i materiali Mamma mia ragazzi non ci sto capendo un cacchio raga Mamma mia raga che emozione Che emozione di partite raga 38 di danno Questo se lo fa easy credo No shit Altre altre persone altre persone Minchia raga Mamma mia che tensione di partita raga Una partita proprio Cerca di ripendere le ground Bella gg Faffanculo streamer di merda Vaffanculo streamer di merda Occhio no Cura ti compà brava Meno male che non è headshot raga Minchia ragazzi questo che sta costruendo qua Sì vai consuma materiale Vai spaccalo stomma in merda Spaccalo Vai petez è un grande gg Mamma mia che partita ragazzi Mamma mia raga E' una mina raga E' una mina cacchio Madre mia raga E' un campione raga E' una bestia raga E' una bestia ragazzi E' una bestia ragazzi E' una bestia ragazzi E' una bestia ragazzi Una cazzo di bestia ragazzi Madre mia ragazzi che spettacolo Vi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se volete vedere cose del genere ragazzi Iscrivetevi al canale e lasciate un bel like Arriviamo a sti centomila prima di Natale ragazzi Pushate sti like per sti ragazzi che ce la mettono tutta Mamma mia ragazzi E' una guerra Bella Luigi De Luca benvenuto nel canale Una guerra ragazzi Una cazzo di guerra Una cazzo di guerra raga Una cazzo di guerra E' vaffanculo tutti quelli che stanno stream sniperando nel culo ve la dovete prendere Tutti quanti raga Stream sniper nel culo ve la dovete prendere Che sapete solo fare questo E ci crepate uno ad uno ragazzi Uno ad uno ci crepate Uno ad uno ci crepate Mamma mia Attenzione deve ricaricare mi sa deve ricaricare Bella tomba su Pasqualoni Mamma mia tutti crollano sotto i colpi di Pitit Mamma mia raga Attenzione si prepara con lanciarazzi Con lanciarazzi signori Dopo aver eliminato dodici nemici Si appresta a eliminarne tanti altri Pitit bot Soprannome dato amichevolmente Anche se sappiamo che non è un bot Ma è una bestia sacra di questo gioco ragazzi No Mamma mia ragazzi Stava per cadere Una delle peggiori morte che potrebbe capitare all'interno di questo torneo ragazzi Ma ce la fa Senza rischi Senza pericolo Cerca di scendere in low ground Fa cadere tutto Spara il primo colpo di Bazzucca Gli mette pressione Abbiamo un nemico sulla destra Attenzione ragazzi Ha eliminato con una grande caduta Giorgio e dottor Gaggia Mamma mia ragazzi No no Malissima posizione Pitit Malissima posizione C'è cosa che ci bella Alessio Mariotti Bella Dark Marco YouTube Bella Tommaso Pasqualoni GG per voi Scende in low ground Scende in low ground Ce n'è un altro nemico sotto Potrebbe essere Intanto mancano gli ultimi quattro nemici Ragazzi Gli ultimi due team Presumibilmente Sono molto agguerriti ragazzi Sono molto agguerriti Mamma mia che missile è in testa Che si è preso GG Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Che partita raga Attenzione gli ultimi colpi di granate No No Potrebbe morire sotto i colpi delle granate Mamma mia ragazzi Che tensione Cristo raga Viene massacrato raga Viene massacrato da colpi di lancia granate Ma lui resiste Con la costruzione in metallo Stanno pushando a 1-1 Una sinistra Una sinistra Petit Ha preso la funivia Raga Costruisce in metallo Ragazzi Mamma mia Degno di uno degli schirmish Migliori in assoluto Raga Mi fa male la testa Di tanto dei commenti Mamma mia ragazzi Otacco tv è morto Raga Porca miseria Questo è da canale ragazzi Questo è da canale Ragazzi Sta ammazzando tutti Ragazzi Sta ammazzando tutti L'ultimo passo Prima della vittoria Ultimo passo Raga Ultimo passo What GG Motherfaka GG ragazzi GG GG ragazzi GG Petit bot Grandissimo Compà Attualmente La partita più bella Del torneo GG Compà GG Un'emozione Raga Un'emozione Ragazzi Un GG Per sto ragazzo E pusciate Sti cazzo di like Porco Giuda Raga Porco Giuda Un big Signori Un fucking big Un fucking big Ragazzi Tutti Se succhiano tutti Stream sniper Caccate sniper Tutto succhiano ragazzi Ma hai visto che mi stavano guardando Nuove play GG Tutti stream sniper Te l'ho detto Quello che ho ucciso Le prime kill C'era quello che È vero È vero È vero È vero GG ragazzi Inutili È una bestia È un car armato ragazzi The fucking GG GG ragazzi È un car emozione He solicitati Beым Ah